Gli ali delle farfalle sono belle e variopinte, ma in qualche modo le ho anche io le ali, le mie braccia. Qui mi sento libera e leggera, qui posso continuare a volare. Oggi è un giorno speciale, sono una po' felice per te. E ti amo sopra mille noti, posso decidere da sola? Perché no? Non fai tranquillo, Marta. Vi ho da raccogliere le conchiglie. Mi rispite tranquilla, Marta. Mi rispite. Chiara, 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 chiara. Chiara, 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 chiara. E ancora volano le farfalle. Chiara, 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 chiara. Chiara, chiara, chiara. Chiara, chiara, chiara. Grazie a tutti.